Per Piemonte, per l'Europa, Genda piana e genti bri, Summa l'erta, gisla piota, Cun ardor di Dianchi, Piemonte al dita d'amur, Caladane il creatur, Piemonte al dita d'amur, Si brandè del nostro lupo. Nel numero del nostro cantono, la Bisalta, L'avevo buttato il primo numero, che è venuto dopo le feste, quando salutavo l'artorna della Luce con l'abbaiio, perché dopo la Tifania, si dice il proverbio, al passo della Fiormia, e anche l'abbaiio e tutte queste feste di Carlevé avevano detto che sono sorti proprio un po' dalle feste pagane, che avevano detto torna l'artorna della bella stagione, pian pianotte, le giornate slungavano, e poi da lì sono cogruppati, dal Medioevo a Venianans, alle feste cristiane, e dicono che praticamente anche la Quaresima, la Quaresima cosa c'era? A commemorare il dì che noi signori erano state in tal deserto, e il Carlevé ha servito un po' per... A leggere un po' questa roba. Ecco, perché poi ha arrivato in Quaresima, allora prima di ridere ha fasi tutte queste feste, ma vent'à dì che entriva l'Ade, e sul silico trovavo proprio scritto in tal libro lì delle tradizioni che lei trova sui mercatini, un numero che era del 1950, però diceva che le feste tradizionali in Italia avevano in tal Piemonte l'unica regione che dà la sua vivenza a tutte le feste tradizionali. Sì, sì, di fatti penso. In particolare con il Carlevé, più in le Valade, forse che ne sono in le città, due che avevano il Gran Carlevé fino ai primi del 1900, ma poi sono che l'abbastanza. Allora mai, superiore. Invece, ci avevano addirittura un valvaraito a Bling, a dire che erano i picunieri, che erano gente che fasiù Carlevé anche dopo le ceneri. Sì, sì. Dopo, e fasiù, allora a Borgosesia fasiù proprio la festa del Mercoschiorot, caldì lì, no? Sì, sì. avevano lungo anche a Milano, a Sant'Ambresa. A Sant'Ambresa. A Sant'Ambresa. Perché adesso è ancora lungo, fino alla domenica dopo, a Milano, quando è dal martes, fino al mercoledì, arrivo fino alla domenica. Ecco, però, Sant'Ambresa è la prima. Perché Ambrogio, perché Ambrogio doveva arrivare, doveva arrivare. A Sant'Ambresa la diaveno per Carlevé. E allora, con quella scusa, l'ha fatto festa, perché la tivindica dopo, perché c'è l'affare del genere. Sì, sì, comunque, agli propri secondi post, no? Ad esempio, mi si rassegnano che sotto i Savoia, da già che, adesso sono sempre in maschera, invece, a Spusia, buttesse la maschera ma gli ultimi tre dits Carlevé. E se ti teni in enco la regola, li fasiù con la mura, che per l'angolo era abbastanza e invece era famosa per gli state ancora Carlevé del 1868 a Turin perché era stata presentata a Gianduja che grignando la sua eterna bolletta perché non aveva niente e su sì va a cobbire per i nostri dì perché sono aumentate le taglie che è fin a non se il ministro Sella e Minghetti che erano qui lì che usavano le taglie e cantava su sì viva il Carlevé e a base al digiung penso Roma ai fastidi quanti non abbia opinione e avanti vi faccio vedere con le Carlevé e le Gianduja sì chiaramente il Carlevé è piuttosto legato ai paesi cristiani perché poi segue normalmente il periodo che è la Pasqua che sposta al periodo del Carlevé normalmente almeno anche un po' parecchio ma infatti poi però due auti sì difatti Michele di Buonavella vi ha scritto il Carlevé alpine ecco perché i Carlevé alpine direi sono proprio qui che hanno mantenuto bene la tradizione si danno gli auti un po' tutto il Piemonte praticamente sì poi il Val Susa anche il Piemonte e sono tanto originale perché come simbolo chi la bestia vestia un po' tutti sì e poi l'Urso ad Paia come il Massia Valdieri cioè una cosa simpaticissima perché comunque le resta gruppate lì al desrullese delle stagioni quindi l'Urso quando sortia dal letargo eccetera ecco e poi però con gruppare le feste cristiane perché anche lì nel Piemonte della Pasqua guarda la luna la luna piena dopo l'equinossi di primavera però la luna che conta come prima è proprio che lì che venga Carlevé gruppa la candlera no e da lì poi resta regolato tutto il calendario dell'anno certo ma poi penso proprio che il Carlevé anche proprio lui dove anche noi vedersi cioè adesso l'anturno ripiano abbastanza tutti i paesi di montagna anche se sono abbastanza spopolare ma lo fa ancora con un piacere i giù si perché si è dicono abbastanza di fatti giù l'abbaiio deriva proprio d'abbadia a ieri le congregazioni di giù che guarnavano tutte queste feste no in particolare quella lì del Carlevé mi si l'abbia proprio butalo bahia è una parola provenzial che vale come abbadia no e alla sua rei è un abbazia denominazione dell'associazione di giù dell'età mesca che udiano le feste della comunità ecco che l'ha scritto chi l'abbia portata è cosa Michele di Bonavè che l'abbia fatto si ha trovato questa poesia che le Carlevé ne volta la rùa del tempo che gira come un ple marcant anche sul quadrante del nostro destino poche ore belle e ne ha brancat sagrini regolament em porta il Carlevé mentre ricord è mia torna mazna galopo anche sul cavale della fantasia come cui organet di barberia che ha portato la canzone del tempo passato allora il tempo di pitum e di agnolot di nase e cartapista le fuzette le mascarade al suome le trombote di dominio sever e di piero un mondo di gente allegra e divertia un mondo di gente a desmenti e sagrini Piazza Vittorio metta tutturin una gran giornata senza malinconia autovolante giostre charlatan student senza ma piena d'amor e sartoriette fresca come fior che ha scompagnato a dire sempre per me belle cubiette fia di student che ha divertito in trenta il labirinto per fesce due basini e vive l'autant da tutti e senza compliment aier l'autant tutti amici n'un arghignan con cui la fratellanza ormai perdua il mondo anche alle mappina nasa che ciocca il sang addosso senza pietà beh carla vede una volta oh che rimpiant se le mappina ricordi di passare come una gioia pura di smentare il carla vede anche alle agonizzanti infatti vedi che Nino Costa lo dice perché nelle città le propri stai parei mentre mi ora le sia oltre a quelli che dissi l'urso di paia era quei manini che fai tanto a carla vede si maninavo tutto e poi un giro a tambornè e invece sempre la borgata la Valmaiera e ad esempio al Preit fai tanto con la maschera che piavo dal carla vede nissa perché allora tornavo specialmente in inverno per il carla vede poi lui rapportavo queste cose che erano novità e era lui curul ad esempio era una specie d'arlequin e erano quelli che curia avanti con i ciocchi con tutti vestiti a binde con l'urano e un'auto interessante era l'uvo che era come una sorta d'uomo tutta maschera con hancicius la schina che asmiava con l'autom che era tanta gamba che ancora faccia come già il ciccio e sabbia nem bim se era il ciccio che comandava o se era capito e allora dice che era anche una cosa interessante no perché ecco carlevé non che era interessante era proprio l'on che spardia l'identità solita e una trasfigurava proprio e comunque si da niente il carlevé che le manuse in città le calizze luce e mi ricordo che da città l'avevo fatto siccome a Villanoeva faceva sempre il car non l'avevo fatto proprio il castello in miniatura siccome lì era come veniva Silvio Pelli coalesi capito le sue persone alla contessa Castasia lì e mi ricordo che era una barba che era vestita alla moda di cavaliere anche anche le magistrate della scuola e mi era come un vestita come un costume medieval ma era una marietta però intanto si fasi sempre queste cose si poi con il trattore andavo fino a Saluse a fare la sfilata era sempre una cosa c'è Ferling e la Castellana che ricordavo il signore chi l'avevi l'elenco delle maschere tradizionale le guardavo le maschere tradizionale più o meno si un po' nostri tirano fuori a chi ne dalle crisi perché ne era d'aire per esempio alcuni vabbè Gironi e Gironi sono un po' da ogni tanto con la Fisa le vestite di Gironi e le simpatiche e tante volte era con Gironi che lo seguia specialmente a Carlevé anche quando fanno Carlevé di Gagno dei Raguni in Cura poi a Mundoì il moro e la bella Muregale che il moro risale dal capo dei Saraceni sempre i Saraceni un po' come la Bahio saluto c'è Ciaferlini e la Castellana a Saviana c'è Sarazette e Sarazetta che voglio dire che le lega al siero il seiras la ricotta e allora perché lì era tanti allevamenti di fatti biraghi ecco sempre da che parlino di tutte le cassini più grosse di Abirun a Fusano invece c'è il gruppo storico degli Acaia però c'è anche il monarca e la monarchessa perché sì Carlo Emanuele I forse l'era passata lì con la Fumna che adesso non è nella storia ma era legato alla nobiltà c'è un po' in essenza che arresto da visite che faccio perché il castello di Acaia la durava su un'age importante e il dragone e la dragonetta risale addirittura al XII secolo quindi Acaia di fatti dicevo giusto prima che è Cecilia e il Roldano la vita prima la Fia perché l'Ecchilla che praticamente la crea questo disuso degli us prima sì che era piazza proprio l'arvanza e poi naturalmente tutta la storia che conta che è stata appoggiata tutta la gente di Danturn addirittura addirittura anche cunia si assurgeva proprio da cui che ero scappato da Carai anche i falò famosi che avevano per festeggiare questa roba mi sembra sì e poi ci accendiamo l'ambito il bel fagiolo russo e la povronetta perché sono i prodotti tipici e vi ha fatto pandus e crema forta e dove le suddette dice che crema forta praticamente uno zabbaglione rinforzato con che cosa ti porto il dretto è simpatico fa strano che la ne fica con i crenatè perché di per via via la mila santali crenatè il paese del ninghe Verzuolo madama carta e musuh cartoon perché la burgo e la burgo scapies al pias sui mani in questo che tu dice di mani e dove a elva per esempio il mangia fiore perché c'era tutto fiorito così addirittura bella lì da dare la cosa le genziane poi era bella leggende che la via cuntà la augero perché lì la notte preparavo il pan poi da ma velu per tutto l'inverno e ero arriva qui da naborgali d'auzine che ero con i fiore a rubare il pan perché vengono a mente per le fiore perché dice che loro andassi qui dal baratta andassi a rubare le fiore andassi andassi anche importante e allora loro l'hanno conosci che ero loro perché l'hanno perduto le fiore e le sacche e l'hanno visti il timbre perché erano tutti timbre e avevano tutta la sua marca e allora come lì che avevano tutte le proprietà si accone il marmore ecco ero qui in marmore perché ero arriva facendo tante che gnaulade e l'hanno portato via il pan ti mi aveva un bel corperne and portato via il pan a naburga che la faccia per avere la roba per l'inverno pensano alla misera mi mi resta men ment ancora davide da milan che l'hanno ha portato i ricordi il aveva un test d'elva o per sud d'alì che impara la via la saia e quasi un quarto di pecora pazzesco tu ti pensi adesso di dire ma poi l'arriero comarghe su la da valdieri raccontava la storia di sticite che ero lì che mangia il brodo della vera che non fa la via promettuglie però pochial a via vendila e allora come fa perché la vera era morta l'arriero contento perché più si e mangi il brodo ma quando sono arrivato l'hanno dito ma come l'è papà che il brodo è niente io no perché la vera era borgna è una fantasia e invece si a demonte c'è il re kant e monna demontina il fiume kant che attraversa tutto il paese e rubilante invece gli c'è che c'è va per questo c'è che c'è van per muro arriva con des ura si sa io chi del posto il cavione è li stessi c'è la cella lui e lei sono sbilanciato come c'è valdieri l'orso di segale che lo facciamo qua adesso perché si mi ricordo perché fa anche poi appare i gnocchi e si 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 e poi l'orso scurato un po' da partito e poi castellana perché si vede che ormè c'erano dei ricchi e si perché ormè era composta un castello enorme un posto importante tra piemonte e ghurda queste sono quelli che recuperano a livello di così come se poi niente così sono interessanti sono car le venglie di serie sono tre magari quelle più antiche come tradizioni era con questo a cur mia per c'era l'urs vuol dire invece le culette la sale insomma sono simpatici si si sono cose interessanti in quel tempo se vedi che vedi che dicevano una poesia nino costa eh guarda provate gianduia mort che era spirituoso gianduia mort punto esclamativo gianduia il è un si giornale le morte e suo cadavere alle fine al balun però stavolta senza fare un tort i giornalista fanno confusione che si ha mort la maschera pelese la maschera colore l'anso destino l'historia ha avut anasse esviluppese l'historia ha avut decad andè alla fin ma 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 la gianduia no per no es confusione la gianduia di vittoria di ca ur non ma di den que l'anso mort ma forse le vivono che sono utro alle vivono si briques le piang le coulinge le vivono si tre color nostra bandiera come i paesani le grange le casin e come i alpin che governano la frontiera gianduia mort non è la prima volta che l'anso canta il funeral in rima ma appena il mondo alla girare la volta le torna a ressuscitare più di che prima fin che sarà un fil d'acqua lunga il po o un punto ai nostri baric una branca zioca gianduia resta si con tutti i so dritti come un pin e dur come una rocca sbordis tenen piemont la gente cria la gente ciancia il giornalista scrive ma il pare ha chiamato la sua famiglia le morti il buratin ma l'u le vive bello però è perché loro avevano sempre questa maniera guardare il mondo come una baracca ad esempio ieri brufferi che avevano scritto tutta una canzone mi ricorda il toc che dice sempre ma qua questa vita fa la baracca ha una farsa dar le king tutto il mondo è una baracca e noi siamo i buratin e difatti lì concosta ai salta fora no perché nel carlerè almeno lì la gente comuna no a s'arvolta al pudegna anche a cerca anche di lì perché sa che non fai gran cose da sare lì magari da buia però se poi pensiamo ai nostri carlerè diciamo piccoli piccoli quando ero ma esnamie mi ricordo i nostri vecchi cosa faccio se pote fare una bella marenta martes glas era l'unica cosa che facciamo dare una parte alle bocce e mangiavo per una volta che cotta che poi aiuta a parirsi a 40 di quarense ma sì ma poi anche il carlerè ha dis che si affonda le ultime riserve che avevi conservato l'inverno allora con la scusa che era la festa si facevano qualche cosa d'usse per le ma là le risole che vi raccio e via parai poi giù come al solito andavano a via per le capo a sede che cosa e poi erano queste figure che calavano nelle valade come le belle dammine che arrivavo da drunet cantavo la cancionetta alla via larbu fin fai con tutti i binde parei e la gente diceva che cosa un po' adesso le perdesse secondo me c'è un po' maschere una volta si butavo tutte le maschere a carle 20 ma si perdesse abbastanza in generale mi ricordo che ancora quando la stia magari da singria poi sortia c'era per la strada andava fino a mia mamma o mia sori veniva dormi facendo sbagliare perché mia fila truccava riparai fuori via una volta pensa perché l'uomo quasi finì e lei dice che ti regge mia vesta da sposa su vestime sono corrisce il butonel e che di lì sono montaggiore da mia so che stia e valla e con custa la sara e spero ma mascheria anche ma perfetta bella grignata sarei a tutti un barba alla baboya spero ma di gavese questa maschera ciao la piana e gent di brì sum alerta dis la piota con ardur di dai antì i e montar di tad amur cala dan el creatur i e un teis e m de o vive si brande del nostro lume